Siamo qui nei laboratori di scenografia del Teatro Lirico di Cagliari perché stiamo preparando lo spettacolo La Bella Addormentata, un'opera di Ottorino Respighi che debutterà al Teatro Lirico di Cagliari il 3 febbraio. Qui dietro di me ci sono degli elementi di scenografia, davanti a me c'è invece un tappeto in preparazione di cui se ne stanno occupando gli attrezzisti di questo teatro che stanno facendo un lavoro meraviglioso e è un'opera che ha un senso poter vedere, uno perché è una favola, una favola che può piacere ai grandi così come probabilmente potrà piacere ai bambini perché il luogo che stiamo creando è un luogo dentro cui sia possibile poter immaginare qualunque cosa perché non c'è nulla di realistico, non c'è nulla di mastodontico ma è un luogo dentro cui la fantasia di ogni singola persona, di ogni singolo bambino potrà vederci tutto quello che sarà necessario per poter raccontare questa storia. C'è una compagnia di canto fatta di cantanti bravissimi nonché attori formidabili, c'è un direttore d'orchestra Donato Renzetti che è una cintura nera e noi siamo qui, vi aspettiamo e credo che i ragazzi si divertiranno sicuramente, gli adulti se hanno la stessa sensibilità dei ragazzi hanno qualche seria possibilità di potersi divertire. Vi aspettiamo, a presto!